ciao amico io essere venuto da Tunisia non avere preso gommone no, gommone essere pericoloso io essere venuto a nuoto Monastì Roma duecento, duecentosessanta ore io avere trovato casa Roma Roma centro, sotto ponte Isola Tiberina io abitare con tanti tanti amici noi essere in tutto sedici quattro noi tunisini e dodici topi bovini sì, perché essere topi ma grandi, grandi come bovini lì essere bello ma poco poco umido soprattutto quando ho fiume in piena noi arrivare a Ostia sì, trascinati via, scorrente ma troppo divertente io amo molto rafting popolo romano mentre noi venire trascinati via tirare noi grosse pietre come dire attenti, nuotate popolo romano vuole bene noi io ho qui trovato lavoro sì dentro bar fare pulizie padrone mio grande amico dare me cinquanta centesimi giorno sì e persino pasto completo un tramezzino vuoto e secco con acqua di sciacquone io amare Italia paese dal grande cuore certo a me mancare mio paese mare, cammelli sequestri, uccisioni io con amici tunisini qualche volta andare a rubare ai poveri sfruttamento, prostituzione ma così passatempo tanto Italia paese buono sì, buono anche se noi prendere dopo due ore lasciare liberi e chiedere tante scuse noi e noi tornare casa Italia paese è bello ma me manca mio cammello Italia paese è bello ma me manca mio cammello